Il valverdice dei paesi europei con la valigia piena della sua Italia veloce, ma c'è anche la questione pensioni per le quali l'Europa ha sempre detto essere un capitolo di spesa eccessivo e sul quale operare tagli. Su questo tema interviene il segretario provinciale della SPCGL Giuseppe Bartoletti. Io penso che questa sia l'ennesima discussione caziosa che nasconde in qualche modo il merito del problema. Il merito del problema secondo me è un altro, secondo noi è un altro. Questo è un paese che in qualche modo ha subito la crisi negli anni passati e l'effetto del coronavirus in un modo pesante perché ha sulle spalle una serie di zavorte, una mancata innovazione tecnologica, un'idea diversa di cosa produrre e di come produrre e quant'altro. E immaginare che invece tutto il problema sia legato al costo delle pensioni, onestamente la cosa fa un po' sorridere. Noi siamo il paese che sta andando in pensione più avanti rispetto ad altri paesi europei. Si va in pensione a 67 anni con una pensione di vecchiaia, 67 anni. E sappiamo benissimo che ci sono lavoratori e lavoratrici in alcuni posti di lavoro che a quell'età ovviamente lavorano male. Poi abbiamo un altro dato che forse andrebbe sottolineato e che noi dal 2012 in questo paese le pensioni non vengono rivalutate. Guardando la provincia di Livorno si ha una popolazione complessiva di 335 mila abitanti con 95 mila pensionati, cioè il 31% del totale, tanti, tre quarti dei quali percepiscono una pensione netta dai 1200 euro in giù. Ma il territorio livonnese è messo meglio di altre province per tipologia di lavoro premiante. La condizione dei punti essenziali sui quali ragionare, secondo Bartoletti, sono tre. Il destino dei giovani è il primo. I giovani entrano al lavoro nella misura in cui c'è un processo di investimento in questo paese. Perché è chiaro che la crisi, la crisi economica che era già presente in questo paese e la crisi determinata dalla condizione del coronavirus hanno fatto sì che hanno fatto emergere i punti di debolezza. Questo è un paese che ha bisogno di essere costruito e ha bisogno di investimento, di innovazione, di processo, di prodotto e in sanità. Sono questi i modi per far sì che i giovani possano sientrare al lavoro. I giovani oggi che stanno lavorando, tra l'altro, hanno un meccanismo di rivalutazione e di valutazione che ha la loro pensione più bassa rispetto a quella delle rigenerazioni precedenti. La rivalutazione e la differenziazione, gli altri due. Occorre costruire un meccanismo di flessibilità, perché è chiaro che un edile o uno che lavora in sinergia o uno che lavora in un impianto chimico non è uguale a un lavoratore che fa un lavoro di ufficio. Quindi c'è bisogno in qualche modo di costruire un percorso di flessibilità di uscita. Io non so se è 40 o 41, non lo so. Non è questo il punto. Il punto è che non si è immaginato di costruire un modello che andasse bene per tutti. E non è così, non è possibile. Si immagina lei un'infermiera che lavora in sala penatoria a 67 anni. E poi soprattutto io penso che c'è un problema di rivalutazione delle pensioni. Questo è un problema vero che questo Paese ha bisogno di affrontare.